Musica Ben trovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari. Inizia l'era De Caro Bis, presentata la nuova giunta una settimana esatta dalla proclamazione del primo cittadino. Sentiamo. Se riconferme tre new entry è una delega ancora da affidare, quella all'urbanistica almeno per ora nelle mani del sindaco Antonio De Caro. Pietro Petruzzelli, Francesca Bottalico, Giuseppe Galasso, Pasquale D'Adamo, Paola Romano mantengono le deleghe del precedente mandato. A Carla Palone viene confermato lo sviluppo economico ma con l'aggiunta dell'assessorato al mare. Alla squadra di De Caro si aggiungono altri tre nuove assessori. Vito Lacoppola, ex delegato all'istruzione della città metropolitana di Bari, con delega alla città dei diritti, della partecipazione, della trasparenza e della legalità. L'esperienza maturata nella città metropolitana mi permetterà di affrontare l'incarico gravoso con la dovuta professionalità. Ines Pierucci, giornalista e attuale coordinatrice dei presidi del libro, con delega alle politiche culturali e turistiche. Sono mamma da pochi mesi e spero di raccontare a lui di una città che è cresciuta grazie al lavoro delle donne e degli uomini che fanno cultura. Ed Eugenio Di Sciascio, il nome che più ha stupito, rettore uscente del Politecnico di Bari, un giovane ingegnere prestato alla politica, come lo ha definito De Caro, nominato vice sindaco e assessore alla trasformazione digitale e servizi civici. Io sono abituato a lavorare e quindi spero che lo stesso tipo di impegno che ho messo nel Politecnico possa essere poi utilizzato in questa nuova attività, sicuramente molto impegnativa, però molto sfidante. Ancora da decidere le deleghe alla Polizia Locale, alla Protezione Civile, alle società partecipate, all'avvocatura, all'edilizia privata e gestione del territorio, ma soprattutto all'urbanistica, che per qualche mese resterà nelle mani di Antonio De Caro dopo il no di Angela Barbanenti al corteggiamento del primo cittadino. L'urbanistica per ora la tiene il sindaco, come ho fatto con il bilancio cinque anni fa, per qualche mese, perché vorrei dare un'impronta politica allo sviluppo della città e alla definizione degli ultimi elementi che caratterizzeranno il piano urbanistico generale della città di Bari e vorrei far partire anche la zona della costa sud, dove ci sarà un mix abbastanza complicato da gestire tra opere pubbliche e opere private, tra spazi pubblici pochi e spazi privati che invece sono tanti nella nostra città e poi nei prossimi mesi indicherò un'assessore all'urbanistica. Se fosse una donna, sì, ancora meglio, vorrei scegliere un tecnico, è inutile nascondere, ci sapete bene qual è la persona a cui sono più legato e a cui l'ho chiesto tante volte, però purtroppo quella persona è impegnata e non lo può fare e non voglio fargli nemmeno particolari pressioni, non sarebbe nemmeno giusto. Sono ritenuti responsabili in concorso del reato di devastazione e per questo sono stati arrestati. La Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti di sette persone, tre cittadini marocchini, due tunisini, un egiziano e un pakistano. I fatti riguardano la violenta rivolta avvenuta nella serata del 27 aprile scorso ad opera di alcuni ospiti del centro di permanenza per i rimpatri di Bari che salendo sui tetti della struttura, distruggendo i superlettili, ammassando materassi e lenzuole, appiccando fuochi da cui sono sviluppati svariati incendi, hanno causato il parziale danneggiamento di due moduli abitativi e la totale devastazione di un terzo plesso del centro. Tre dei sette arrestati sono stati rintracciati presso il CPR di Bari, quattro invece sono stati catturati nelle città di Milano, Udine, La Spezia e Taranto. Altre quattro persone ritenute responsabili della rivolta sono ancora ricercate su tutto il territorio nazionale. Ex OM è sbloccata la cassa integrazione in deroga, ieri mattina sono partiti i primi pagamenti ma si continua a lottare anche in vista della riconversione industriale. Sono arrivati ieri sui conti correnti dei lavoratori ex OM i bonifici relativi alla prima tranche della cassa integrazione in deroga 2018 relativi ai primi sette mesi. Nei primi dieci giorni di luglio invece dovrebbe arrivare la restante parte relativa alle ultime cinque mensilità. Un respiro di sollievo dopo ben 18 mesi di silenzio e battaglie e sofferenze, un piccolo passo in avanti per una delle vertenze più difficili del territorio per cui si continua a lavorare su diversi fronti. Adesso dobbiamo cercare di far ottenere ai lavoratori la mobilità in deroga che spetta loro sulla base di un emendamento emesso nella legge di bilancio 2018 e successivamente continueremo a vigilare attentamente sul processo di reindustrializzazione che prevede 24 mesi ancora di tempo affinché i 24 mesi quantomeno vengano rispettati e soprattutto ci continueremo a battere per i diritti di quei lavoratori che sono restati esclusi dal progetto di reindustrializzazione perché ricordiamo che il protocollo di intesa con Selectica prevedeva l'assunzione di 128 persone e in realtà i lavoratori ex OM in forza sono 150. In preda ad un inspiegabile raptus ha percosso una donna che aspettava l'autobus in via Ricchioni, poi intercettato dai carabinieri nel tentativo di sfuggire all'arresto ha iniziato a sferrare calci e pugni contro i militari procurando loro lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. Il protagonista della vicenda è un uomo di 33 anni di origini nigeriane, risultato essere irregolare sul territorio nazionale, adesso ristretto nel carcere di Bari. Una volta riportata la calma, la vittima dell'aggressione, un'impiegata di 55 anni, è stata trasportata in ospedale. I medici del San Paolo, dopo aver curato traumi e contusioni, l'hanno dimessa con 6 giorni di proniosi. I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Bari hanno sottoposto a sequestro oltre 4 milioni di articoli cosmetici prodotti in Cina e commercializzati in Italia, anche via web. Nel corso delle indagini sono state individuate due società romane che commercializzavano illecitamente prodotti per la cura del corpo, contrassegnati dal marchio Susi Makeup Italy. I risultati, a seguito di perizia, nocivi per la salute in quanto contenenti sostanze chimiche vietate dalla normativa italiana ed europea. Tre cittadini di nazionalità cinese sono stati denunciati a piede libero. Ed ora ci occupiamo della realizzazione dell'ospedale di Monopoli, aggiudicato con una gara a Lampo. Il cantiere è stato inaugurato a settembre, ma i lavori non sembrano procedere a pieno ritmo. Aggiudicato dopo una gara ribattezzata a Bando Lampo, lasciò dietro di sé una lunga scia di velene e polemiche. Parliamo della realizzazione del nuovo ospedale di Monopoli-Fasano. La posa della prima pietra risale al 26 settembre del 2018. Ma come procedono i tanto sbandierati lavori per il grande polo specializzato nella cura delle malattie di alta e media complessità? Si leggono spesso report che con toni trionfalistici aggiornano sullo stato del cantiere. L'ultimo risale a qualche giorno fa e parlava di uno scavo eseguito in 171 giorni di lavori. Ma ciò che viene detto? Trova corrispondenza nella realtà? Dalle immagini non si direbbe. Pochi operai e qualche macchinario sono ben lontani dall'idea di un cantiere in cui si lavora lacrimente. Ma questa è un'opinione. Atteniamoci ai fatti. Servono ancora 829 giorni per concludere il mega appalto chiavi in mano. Parliamo di circa due anni e tre mesi durante i quali, si spera, non ci siano intoppi. Ma un nodo da sciogliere in realtà c'è già e non si tratta propriamente di un dettaglio. La capofila dell'Ati che si è giudicata la gara, la Staldi, non naviga in buone acque. La sua sorte in bilico fino al 15 luglio, deadline per l'offerta vincolante che la Salini dovrà proporre per salvare il gruppo di costruzioni quotato in borsa. Cosa accadrebbe in caso di mancato salvataggio? Sarebbe una bella gatta da pelare perché per legge il cantiere dovrebbe passare di mano al secondo classificato con inevitabili ritardi. La sanità d'eccellenza troverà casa nell'ospedale di Monopoli-Fasano. Speriamo di non dover chiederci quando. Non sarebbe la prima volta di ritardi pesanti nella realizzazione delle opere pubbliche, così frequenti che ne siamo ormai a suoi fatti. Ma quando si parla di salute pubblica la guardia deve restare alta. Giorno di elezioni per il nuovo rettore del Politecnico di Bari. Alle 13 l'affluenza nelle sedi del capoluogo pugliese di Taranto è stata del 70% degli aventi diritti al voto. Alle 16 la chiusura dei seggi e l'inizio dello scrutinio. Cinque i candidati. Riccardo Amirante, docente del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management. Francesco Cupertino, docente del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione. Umberto Fratino, direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale del Territorio, Edile e di Chimica. Orazio Gustolisi del Dipartimento di Scienze e dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura. E' Mario Daniele Piccioni del Dipartimento di Scienze e dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura. Servirà la maggioranza assoluta dei voti per decretare il nuovo rettore. Eventuali tornate ci saranno il 2 e l'8 luglio. In caso di mancata elezione è previsto il ballottaggio tra i due candidati più suffragati il 16 luglio. La Puglia attiva la rete elettrica del futuro. Il progetto di distribuzione costato 170 milioni di euro in parte finanziati dalla Commissione Europea Roberto Maggi. Una rete smart che percorre l'intera regione favorendo l'integrazione delle energie rinnovabili e trasportando informazioni e dati insieme all'elettricità e distribuzione presenta a Bari il Puglia Active Network, un progetto da 170 milioni di euro realizzato col cofinanziamento della Commissione Europea. Tra le azioni principali individuate per questo sistema intelligente, la digitalizzazione della rete elettrica, lo sviluppo su scala regionale di una infrastruttura di ricarica per veicoli e l'abilitazione dei cittadini alla gestione attiva dei consumi. Vincenzo Ranieri, amministratore delegato di e-distribuzione che ha partecipato all'evento di presentazione tenutosi a Bari, ha spiegato l'importanza di questo progetto, annunciando peraltro il finanziamento di tre dottorati di ricerca col Politecnico del Capologo Pugliese, sulle reti di distribuzione. Da un punto di vista infrastrutturale, questo progetto aumenta di oltre il 20% la quantità del servizio al cliente finale, quindi evidentemente vuol dire meno interruzioni, vuol dire tempi comunque e continuità del servizio più garantita. Favorire al contempo una maggiore integrazione di fonti rinnovabili e questo vuol dire un beneficio sulla bolletta, perché evidentemente la componente di produzione di energia costerà un po' meno. Il progetto, che ha interessato circa 30.000 chilometri di rete di media tensione, cui sono connessi oltre 44.000 impianti di produzione da fonte rinnovabile, raggiungerà oltre 2 milioni di cittadini pugliesi. Inoltre saranno 74 i punti di ricarica per auto elettriche dislocati sull'intero territorio regionale. L'obiettivo però è quello di far diventare, quello di PAN, un modello di riferimento per tutto il paese. Mentre gli Stati Uniti hanno però il gas e la Cina il carbone, l'Europa non ha niente di questo. E quindi dalla necessità, si diceva una volta, si aguzza l'ingegno. E l'Enel è un bel esempio di come si è molto aguzzato l'ingegno, per trovare soluzioni che permettano una gestione ottimale ed efficace delle risorse scarse che abbiamo. L'informazione termina qui, vi ricordo che per notizie e aggiornamenti potete consultare il nostro sito internet www.telebari.it Grazie per averci seguito, a più tardi con l'informazione di Telebari. Il meteo è offerto da SGServiceSud.it Ben trovati da Nikos di Trebi Meteo, sabato con l'alta pressione sempre sull'Europa centro-occidentale, a governare la scena meteo anche sulla nostra penisola, ampie aperture del cielo, un po' di variabilità, attenzione sul Piemonte occidentale, ridosso poi anche della Liguria, delle Prealpi. Lombarde. Andiamo a vedere la prossima grafica perché appunto un po' di variabilità la segnaliamo proprio su Alpi, Prealpi, ma così come anche Alta Lombardia, in dissolvimento nel corso della giornata. Altrove, ampie aperture del cielo, una giornata di sabato abbastanza tranquilla. In sintesi, l'ultima grafica ci conferma un po' di sole che non mancherà da nord a sud, della variabilità ridosso delle nostre montagne del nord e dell'Appennino settentrionale, dovuto al rientro di venti da est in pianura padana. Le temperature infatti perderanno un paio di gradi, soprattutto sul nord-est, un caldo più sopportabile ma anche su gran parte del centro-sud. Insomma, si smorza un pochettino questa ondata di caldo africano. I dettagli maggiori li trovate sull'app di Trebi Meteo. Il meteo è offerto da SGServiceSud.it